Si può superare tutto, l'odio, le ingiustizie, le sofferenze più profonde per riconciliarsi, vivere e costruire qualcosa insieme. E' questo che ha insegnato Nelson Mandela al Sudafrica diviso dal razzismo e dal mondo, che oggi, cantando e ballando, lo celebra. E deve essere questo che ha pensato Barack Obama mentre saliva le scale dello stadio di Soweto per commemorare uno dei suoi eroi. Non poteva esserci miglior modo per onorare Mandela che questa non programmata secondo la Casa Bianca e si vede stretta di mano. Da un lato quello che viene dipinto come l'imperialista che affama Cuba con il suo embargo e dall'altro quello che viene chiamato il dittatore, il comunista o quello che ne rimane, che ha in spregio le libertà democratiche e lo stile di vita americano. Castro, nel suo discorso sotto la pioggia di uno stadio di Soweto meno pieno del previsto, ha definito Mandela il profeta della riconciliazione. L'ultimo grande liberatore del ventesimo secolo lo ha chiamato proprio Barack Obama ed è proprio dal ventesimo secolo che americani e cubani si trascinano la loro guerra fredda. 50 anni di incomprensioni, tentate invasioni, tentati omicidi, di famiglie smembrate pur vivendo a 150 chilometri di distanza, meno che tra Roma e Napoli, ma incontrarsi è impossibile. Può anche darsi che nelle future relazioni tra Stati Uniti e Cuba la stretta di mano di oggi non cambierà nulla. Già in passato, nel 2000, Clinton e Fidel si erano scambiati qualche parola. Eppure, dopo quanto accaduto con l'Iran, dopo le ripetute aperture di Obama, forse serviva solo la spinta di un uomo come non ce ne saranno più, sono parole del presidente americano, per incoraggiare due leader e due paesi a fare quello che Mandela sapeva fare meglio di chiunque altro, scardinare lo status quo.